La Cavese ha raggiunto la salvezza con anticipo. Tenterà la scalata ai play-off di qui fino al 5 di maggio, ma il difficile nel calendario dei metelliani deve ancora arrivare. Sino alla fine del campionato di Serie C, girone C, la squadra incontrerà soprattutto compagini che lotteranno per installarsi nella colonna di sinistra della classifica e accedere così ai play-off. La prossima gara che per i bianco-blu potrebbe presentare qualche difficoltà è quella sul terreno del Rende, che si disputerà domenica prossima con tutta probabilità allo stadio Luigi Razza di Vibo Valencia per impossibilità momentanea di giocare al Lorenzo di Rende. Non è da escludere un anticipo di alcune ore per motivi organizzativi, quindi alle 14.30 se ambedue le società dovessero trovarsi d'accordo. Ma non ci sono ancora note ufficiali in merito a questo. Intanto la squadra metelliana, dopo aver raggiunto la permanenza in C in maniera aritmetica, non vuole fermarsi. Ne è certo il difensore centrale Amedeo Silvestri, schierato titolare nelle ultime partite giocate dalla Cavese in campionato. Quando siamo arrivati qua è chiaro che l'obiettivo era la salvezza, poi in base alla squadra comunque che si era costruita era un po' difficile pensare inizialmente comunque a una possibilità di playoff. Però posso dirti che man mano le settimane il lavoro costante, il tanto lavoro che abbiamo fatto e comunque noi siamo un gruppo unito, un gruppo che lavora e che non si lamenta mai. Partita dopo partita onestamente gli dico che ci abbiamo creduto nei playoff e adesso siamo lì e non li vogliamo abbandonare. Sarà una partita difficile perché comunque Rende fa un buon calcio, sono molto propositivi, quindi è una partita da prendere con le pinze. Noi sicuramente andremo lì con il solito piglio di giocarci con tutte le squadre.